Matteo Salvini, le elezioni in Francia hanno dimostrato che l'ampio euroscetticismo continua ad aumentare? Le elezioni sono sempre una buona notizia. Innanzitutto mi spiace che ci sia gente come Napolitano, come Renzi, che le elezioni van bene se vincono i loro amici e le elezioni van male se invece vincono coloro che gli stanno antipatici. Quindi vive i francesi come vive agli svizzeri, vive il voto in Crimea, vive il referendum in Veneto, vive il popolo quando si esprime. Detto questo è un voto assolutamente chiaro per un'altra Europa, non contro, non è l'estrema destra, non sono i nostalgici, è per un'altra Europa fondata sul lavoro, sulla famiglia, sull'agricoltura, sulla difesa dei confini. Noi siamo vittima di un'invasione che né noi né l'Alepen ci possiamo più permettere. Quindi è una bella primavera d'Europa quella con cui ci siamo risvegliati. E Napolitano sembra fare difesa d'oltranza dell'Europa? E Napolitano è fermo a 30, 40, 50 anni fa, probabilmente lui pensa a quel tipo di Europa. L'euro sta riportando la guerra ai litigi in Europa, è questo il rischio, sta facendo litigare i greci con i tedeschi, gli italiani con i francesi, gli spagnoli con gli inglesi. L'euro è una moneta nata male, morta peggio e prima ne usciamo, meglio è. Il Napolitano mi spiace che usi una strage come quella delle fosse ardiatine per far politica, per difendere un'Europa che così come impostata è indifendibile. Invece per quanto riguarda l'alleanza con l'Alepen, soprattutto in visione europea, che idea si è fatta adesso? Ne ero anche convinti prima, ne siamo convinti adesso. Mi spiace che Grillo schifi l'Alepen, ma anche sull'euro Grillo cambia idea ogni quarto d'ora. Noi diciamo senza se, senza ma, fuori dall'euro, l'euro è morto, l'euro è morte, l'euro è fame, l'euro è disoccupazione. Riprendiamoci sovranità sul lavoro, sulla moneta, sull'agricoltura, sul commercio, sulla famiglia e sulla società. Quindi siederemo insieme per costruire un'altra Europa. Io ho visto i giornali di oggi che cercano di relegare il voto francese come un voto nostalgico del passato e dell'ultra destra. È il voto del futuro, è il voto che ci sarà in Austria, in Olanda e ovunque la gente non vuole morire di fame, perché l'euro è questo. L'euro è la ricchezza dei tedeschi e la fame per tutti gli altri. E che l'Europa non funzioni così bene si vede anche dai flussi di immigrati. Il governo Renzi-Alfano sta ospitando a spese degli italiani, quindi a spese nostre, migliaia e migliaia di disperati, senza documenti, senza futuro, senza una riera in tasca, in tutte le città d'Italia, 40, 50, 100 euro al giorno per mantenerli magari in alberghi con piscina, sauna, idromassaggio. È veramente un affronto agli italiani in difficoltà, ai padani che non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Quindi il ministro Alfano potrebbe anche pensare a dimettersi, se non è in grado di controllare i confini di un paese. L'Europa se ne fotte, in questo come in altri campi è un problema vostro, ci dice, gestitevelo, affari vostri. E questa è l'Europa che non ci piace, l'Europa che ci piace difende, difende la sua gente, il suo lavoro, i suoi interessi legittimi e i suoi confini.